Altro che clima mite, freddo, piogge e vento forte stanno caratterizzando questa terza settimana di primavera. Appreso tutte alla sprovvista il drastico calo delle temperature di questi giorni, qualcuno parla di maggembre, il calendario infatti segna maggio, ma il termometro indica piuttosto novembre. Le temperature sono quelle tipiche del pieno inverno e gli esperti dicono che non accadeva da 62 anni, dal maggio del 1957, quando l'intera penisola venne investita da una massa di aria artica, che portò nevicate fino a basse quote un po' ovunque. Ora, più che la pioggia preoccupare l'abbassamento delle temperature, che sono scese di 10-15 gradi e a causa dei forti venti se ne ha una percezione ancora inferiore. La protezione civile della regione Campania nei giorni scorsi aveva diramato l'allerta per vento forte fino alla mezzanotte di ieri, per oggi, lunedì 6 maggio, parlava di rovesci su tutta la regione con venti moderati. Da mercoledì la situazione cambierà. Tra l'8 e il 9 maggio, infatti, le temperature saranno in forte rialzo, soprattutto al centro-sud, dove tra il 10 e il 12 maggio raggiungeranno quasi ovunque i valori tra i 20 e i 25 gradi. Non è tutto, le stranezze della primavera 2019 non terminano, perché il freddo e le giornate all'insegna del maltempo rifaranno capolino ancora per qualche giorno. Già domenica prossima, infatti, è prevista un'altra ondata di freddo anomalo e fuori stagione. Durerà tre o quattro giorni, poi di nuovo su con le temperature. Saremo quindi in balia di un'altalena termica ancora per un po'.